salve tutto bene oggi vediamo periodo ipotetico e facciamo alcuni esercizi cosa significa periodo ipotetico più o meno come in portoghese il nome periodo ipotetico vuol dire che c'è qualche ipotesi mi chiamo nalini sono la vostra professoressa di italiano benvenuta benvenuto prima vediamo un dialogo tra anna e gianni e se invece di dare una camicia li dessimo uno zaino pensi che gli piacerà di più penso di sì va bene secondo me possiamo cambiare il suo regalo e quando lo compriamo se andremo al supermercato oggi pomeriggio potremo passare nel negozio di abbigliamenti sportivi e già vederlo può essere certo e se gli dessimo una carta regalo così lui potrebbe scegliere quello che vuole no sembra che non abbiamo avuto nessun lavoro con lui tipo penserà che ce ne freghiamo hai ragioni vabbè compriamo lo zaino se non gli piace potrà cambiare nel negozio basta che porti lo scontrino certo quindi vedete che coppa che le frasi sono il periodo comincia più o meno sempre con la stessa particella se se questo quello se quello la questo qua se l'ha qua vito se non gli piace potrà se gli dessimo potrebbe scegliere se andremo potremo passare vedrete che con tutto c'è nel periodo ipotetico questo se nel periodo ipotetico esprime una situazione più o meno possibili e ed è introdotto da se in generale se un'ipotesi e una conseguenza ci sono tre tipi di periodo ipotetico ok vediamo qua i tre tipi il periodo ipotetico del primo tipo è il periodo ipotetico della realtà esprime una situazione probabile e realizzabile nel presente o nel futuro si può costruire delle seguenti formi se con un verbo all'indicativo presente e un altro all'indicativo presente se un verbo all'indicativo presente e l'altro all'imperativo se indicativo presente e l'altro al futuro o se e i due verbi al futuro vediamo esempio ok non vi preoccupate se con i due verbi all'indicativo presente se passo nell'esame faccio una festa nel fine settimana quindi qua è della realtà della possibilità abbiamo visto che esprime una situazione probabile o realizzabile nel futuro il futuro qua o presente possiamo usare intanto presente per indicare presente o presente per indicare futuro se passo nell'esame faccio una festa nel fine settimana presente indicativo presente imperativo se scopri qual è l'indirizzo dimmelo se con indicativo presente e un altro verbo al futuro se arriviamo in ritardo di nuovo pagherà tu il biglietto del cinema se con futuro nei due verbi se prenderai questa decisione non ti appoggerò ok questo qua prenderai appoggerò al futuro dopo periodo ipotetico del secondo tipo indica possibilità nel presente o nel futuro esprime una situazione possibile ma difficile da realizzare ricordando che il primo è della realtà il secondo è della possibilità il primo è probabile e realizzabile il secondo è possibile ma è difficile se congiuntivo imperfetto condizionali semplice vediamo gli esempi se non piovesse sarebbe meglio per uscire domani se tu parlassi con lui la situazione sarebbe più facile da risolvere è possibile sì però è più difficile di realizzare nel senso non possiamo controllare la pioggia non possiamo controllare se la persona parlerà con l'altro o no questo dipende da una da una seconda persona da una seconda cosa come la pioggia per esempio non dipende da noi per questo è possibile ma non è tanto facile perché non è una cosa che dipende da noi abbiamo periodo ipotetico del terzo tipo periodo ipotetico del terzo tipo si divide in due forme della realtà nel presente nel futuro che esprime una situazione impossibile se congiuntivo imperfetto e condizionale semplice vediamo gli esempi se avessi 18 anni farei uno sport radicale io ho 29 se io è una cosa che io dovrei che io avrei dovuto realizzare nel passato e non ho fatto se fosse possibile ritornerei nel tempo per vivere questo un'altra volta ma sappiamo che non è possibile tornare nel tempo né quindi congiuntivo imperfetto avessi fossi e condizionale semplice farei ritornerei certo queste cose che non sono più possibili perché sono già che il tempo di questa cosa è già passato la seconda forma del c'è un capilogo la seconda forma del del periodo ipotetico del terzo tipo è anche della in realtà ma vedete qua la prima parte nel periodo ipotetico di terzo tipo prima forma in realtà nel presente nel futuro seconda forma in realtà nel passato si riferisce a una situazione che non è realizzata nel passato ma da lì in come questo ma anche questo qua non è realizzata nel passato sì ma non è una situazione possibile di realizzare nel passato perché già è passata quell'epoca tipo i miei 18 anni sono già passati non posso realizzare ma posso realizzare nel futuro è una cosa che non impedisce di fare pito ok questa qua di tornare a vivere può essere realizzata tipo se tu vai di nuovo quel posto e fai la stessa cosa di nuovo tu poi rivivere non è difficile non è impossibile 100 per cento ma è più difficile allora questa qua della in realtà nel passato si riferisce a una situazione che non è realizzata nel passato e vediamo gli esempi si forma con se più il congiuntivo tra passato e il condizionale composto se avessi saputo di questo concorso mi sarei iscritto il concorso è passato non posso iscrivermi ok fare uno sport radicale posso non con 18 anni ma posso se fossimo usciti più presto saremo arrivati in tempo per l'esame allora se fossimo usciti più presto saremo arrivati in tempo per l'esame l'esame è passato non si può realizzare di nuovo capito adesso facciamo alcuni esercizi fate una pausa del video se non avete fatto gli esercizi e se non avete fatto gli esercizi fate una pausa fate gli esercizi che dopo torniamo alla lima come faccio per sapere se primo tipo secondo tipo terzo tipo fate attenzione vi ho dato un tempo verbale per esempio nella numero uno se avessi un motorino qual è il tempo verbale di avesse cercate ok cercateli nella nelle altre lezioni nei vostri appunti nel vostro quaderno bellissimo di italiano qual è il tempo verbale di avessi congiuntivo imperfetto allora andate qua e vedete a qual è il tempo che io uso congiuntivo qual è il periodo ipotetico che uso congiuntivo imperfetto primo tipo secondo tipo né terzo tipo terzo tipo prima parte seconda parte vedete che non è tanto difficile vi ho dato un verbo e è questo il mio aiuto certo fate la vostra parte se avete già fatto gli esercizi possiamo correggerli adesso se avessi un motorino arrivare prima in ufficio se avessi un motorino arrivere prima in ufficio i bambini giocherebbero fuori se non piovere i bambini giocherebbero fuori se non piovesse giocherebbero qual è il tempo verbale attenzione condizionale no se andare a dormire tardi non riesco a svegliarmi presto se vado a dormire tardi non riesco a svegliarmi presto presente indicativo in tutte e due allora di primo tipo se maria venire ieri si sarebbe divertita e qua sarebbe divertita si sarebbe divertita qui è un verbo riflessivo divertirsi né si sarebbe divertita è condizionale passato primo secondo terzo tipo usiamo con condizionale qual è il verbo che usiamo insieme a condizionale se maria fosse venuta ieri si sarebbe divertita numero due se non avessi bevuto se non avessi bevuto ora tu avere mal di testa ora non tu avere mal di testa se non avessi bevuto ora non avresti mal di testa gianni non vedere i suoi amici non vedere più i suoi amici se si trasferisce a berlino se stamattina prendere il caffè ora non avrei tanto sonno stamattina la stessa cosa che questa mattina ok però si può mettere insieme dire stamattina vedete sono con doppia n è questo qua certo sono con una n è del verbo essere io sono loro sono e quando appena è di volere dormire ok se stamattina avessi preso il caffè non ora non avrei tanto sono Stefano avrebbe preso un voto migliore se studiare di più Stefano avrebbe preso un voto migliore se avesse studiato di più se avesse le ali volare le ali ok quello che hanno gli uccelli le api asas se avessi le ali volerei alcune persone a volte hanno le ali ma non è che riescono a volare certo continuate se essere ricco comprerei una ferrari se fossi ricco comprerei una ferrari qui non dico se io ma si capisce che io a causa del comprerei ok comprerei vedete che è coniugato nella prima persona Marco esce con la sua ragazza se domani non esserci lezione verbo esserci attenzione Marco esce con la sua ragazza se domani non c'è lezione lo so che domani indica futuro ma sapete che possiamo usare presente anche se diciamo domani dopo domani se Anna fare un po' di sport non avrebbe malo di schiena questo sono io se io facessi più sport non avrei malo di schiena se Anna facesse un po' di sport non avrebbe malo di schiena certo se avere tempo l'avrei fatto volentieri se avessi avuto tempo l'avrei fatto volentieri attenzione che qua è passato eh condizionale passato e congiuntivo tra passato se l'anno scorso mi avessi ascoltato ora non essere nei guai nei guai questi problemi ok o con problemi se l'anno scorso mi avessi ascoltato ora non saresti nei guai se avessi saputo dello sciopero sciopero è quando le cose non funzionano tipo i funzionari non vogliono lavorare senza ricevere un aumento o qualcosa del genere tipo una manifestazione dei lavoratori se avessi saputo dello sciopero venire in macchina se avessi saputo dello sciopero sarei venuto in macchina fate attenzione a queste frasi se indicano possibilità realtà, impossibilità qual è il tipo del periodo ipotetico che abbiamo qua quali sono i tempi verbali usati fate attenzione a tutto questo certo penso che sia un po' complicato perché sono diversi tempi verbali per ricordare lì abbiamo fatto un esercizio con tutti i tempi verbali o con quasi tutti i tempi verbali insieme ma funziona così nella vita non facciamo tipo nel nostro quotidiano non diciamo, non scriviamo, non leggiamo solo in un tempo verbale quando vogliamo passiamo a un altro facciamo questo tutto mescolato tutto insieme mescolato allora, per questo vi ho messo qui periodo ipotetico siccome ci sono diversi tempi verbali ho pensato di mettere anche nell'esercizio senza separare primo tipo, secondo tipo, terzo tipo che così voi fate lo sforzo di pensare qual è il tempo verbale che devo usare qual è qui il tipo? primo, secondo, terzo certo, fate un po' di attenzione a queste frasi sono importanti per capire gli usi dei verbi dei tempi verbali ok? se avete domande, dubbi potete inviarmi un messaggio sul mio instagram italiano a tutti e vi posso rispondere se non avete capito un esercizio una frase o se volete sapere di un altro uso avete visto una frase e volete sapere come si può usare questa frase nel periodo ipotetico se va bene quello che avete pensato tutto questo potete dirmi là nel mio instagram che io vi rispondo senza problema certo, buoni studi e ci vediamo nella nostra prossima lezione un bacio grazie